Perché vedete il Cardinale del Caro era famoso, andava in tutta Italia, a Roma, il Concilio era in preparazione ed era in fase di avanzata celebrazione. Ma chi è che portava il peso della diocesi giorno per giorno? Monsignor Baroni. Lì era lui che teneva le fila dei sacerdoti, era lui che teneva in mano le redini concrete della quotidianità della Chiesa. Chi lo incontrava, Monsignor Baroni, si accorgeva subito che non era un prete a tempo determinato, tre ore al giorno, quattro ore al giorno, ma a tempo pieno. Sapeva conciliare il suo alto servizio all'Arcivescovo con il Ministero della Misericordia in confessionale. Quanti andavano da lui a confessarsi alla vita. L'esercizio dell'autorità ferma, con lui non si scherzava mica tanto, e senza compromessi, però con una grande fraternità sacerdotale. Sapeva conciliare l'alta teologia e i principi giuridici con la bonaria sapienza popolare della bolognesità e della petronianità. Quando nel luglio del 1963 ricevette venti diaconi per il giuramento e la professione di fede prima dell'ordinazione sacerdotale, c'ero anch'io, giunto il mio turno mi disbigliò, tetane più bisogni che chieter. Io poi non capivo, ho capito dopo perché, perché dopo un po' mi fecero segretario del Cardinale Ercaro, entrare in quella casa era un po' complicato. E poi tutto il resto, fino a oggi, quindi è stata anche una piccola profezia, tetane più bisogni che chieter, quando ci mettevamo in ginocchio per giurare. Grazie. Grazie.